Tu sei arrivato a Parma e possiamo dire hai preso il posto ancora di Melanze. Cosa pensi di Melanze? Pensi che non sia stata una scelta troppo apprezzata quella di Parma? Prima di quest'anno non conoscevo di Melanze, però secondo me è un buon giocatore, però con la società potranno fare queste scelte. Per carità non lo può dire. Melanze è rimasto nel 40 tifosi, ma se Melanze fa fatica a giocare nel Parma, pensavi potessi giocare nel Parma che deve arrivare prima. Ma se Maragli giocava a centro campo, ci sta che Melanze faccia fatica nel Parma. Vorrei solo avvisarti, fatti una comunicazione per i naviganti, perché l'ambiente di Parma, parlando se niente, fino a pochi mesi fa, Melanze lo canneva, lo stesso che gli stanno in punta adesso. L'hanno applaudito, fai tutti gli scongiuri perché adesso tu sai com'è. Finito soldi, finito amore. Questo è stato in calcio. Siamo sempre ottimizzati. Il discorso della preparazione delle partite, il fatto che magari Venezia forse rimane prima. Noi adesso siamo secondi, ma c'è sempre la ricorsa. Una volta siamo appena terzi di un punto. Quindi come preparate le partite in futuro? In serenità. Eh no, perché voglio dire, prima... Siccome ci siamo incartati, siccome ci siamo incartati prima, guardando sempre in Venezia, adesso serenità. Non partiamo? Pensavo, 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 pensavo per la pubblicità di averle sentite tutte, ma con tutto il rispetto. Ripiangere Melandri è insomma... Pensavo... Siamo estremamente riconoscenti, però siccome dobbiamo andare in Serie B, Enrico... Pensavo, 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 pensavo...